Un vile atto di vandalismo, un gesto ignobile che sfregia la memoria di un pesarese che incarnava i valori di sport, correttezza e rispetto delle regole. Ieri nel playground di Villa San Martino intitolato alla memoria di Gianluca Mattioli è stata infatti trovata distrutta la targa in ricordo del compianto arbitro internazionale di basket venuto a mancare prematuramente nel 2017 e al quale fu appunto intitolato il campo da pallacanestro di via Ponchielli. È stato divelto il supporto in metallo che sosteneva la targa finita per frantumarsi a terra. Chi l'ha trovata l'ha per il momento ricomposta come mosaico adagiato a terra. Dura condanna a mezzo social da parte dell'assessore allo sport Mila della Dora che nel febbraio 2022 scoprì la targa in memoria di Mattioli a completamento del lavoro di riqualificazione del campo da basket. Ora è caccia responsabili anche attraverso l'esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nel quartiere.